Sono Monica Sirelli dal sito www.ft-azione.it e dal canale YouTube FT-azione e parliamo oggi del nuovo lavoro. In questa situazione economica in cui ci siamo venuti a trovare, ma anche in un momento in cui le persone sentono che il lavoro che stanno facendo non è più quello che gli risuona, quello che sono venuti a fare, non ricavano più soddisfazione, ma sentono meccanicità, sentono ripetitività e sentono anche questa voglia di andare via, si colloca questo video, si colloca questo audio. Per quale motivo? Perché quando sentiamo questa spinta ci sono due movimenti dentro di noi, un movimento che è già pronto per il cambiamento e un movimento che ha paura del cambiamento, a volte anche non sa cosa fare, non sa cosa andare a fare o sa cosa gli piacerebbe fare, ma non crede di poter vivere di questo. E quindi questo video, questo audio, vuole proprio essere un'apertura, un varco per tutte queste persone che in questo momento si trovano in questo stato, in questo stato di cambiamento, proprio per poterci connettere non solo con la nostra ispirazione, la nostra parte creativa, ma anche con la grande forza dentro di noi che può portarci verso il nostro lavoro, il lavoro che siamo venuti a fare qui come anime, compatibilmente con la situazione di dover ovviamente produrre reddito per poter vivere agiatamente. E quindi partiamo subito dal punto karate e ripetiamo, anche se sento che è venuto il momento di cambiare, sento che voglio un nuovo lavoro, ho anche qualche idea, ho cose che mi appassionano, in me convive la paura di non farcela. La paura di non farcela a lavorare in proprio, la paura di non farcela con le spese della partita IVA, la paura di non riuscire ad avere clienti, movimento, incassi, fatturato, guadagni, la paura di non trovare quest'opportunità, di non aprire quest'opportunità, questa paura è vero di cambiare. Fate un respiro e sentite dentro di voi dove si colloca questa paura. Ognuno di noi ha un punto di paura e proprio andate in questo punto e sopra la testa vi picchiettate ripetendo riequilibro questo punto pieno di paura. Respira. Rilascio tutta la tensione contenuta in questa paura, contenuta in questo punto del mio corpo, centro dell'occhio e mi permetto di esplorare nuovi orizzonti, di scoprire nuove strade. Lato dell'occhio, la mia strada e mi sento che ogni giorno sempre di più in ogni modo, sono sostenuto dalla vita in questo viaggio. Sotto l'occhio, mi apro al nuovo lavoro e mi connetto con il campo di tutte le illimitate possibilità in cui andrà bene. Fate un respiro. ancora un respiro. Liberate il diaframma qui, questo muscolo pieno di paura. Sotto il naso. Libero questa separazione che esiste tra me e il risultato. Questa separazione che esiste fra me e il lavoro che voglio e la possibilità che vada bene. Sotto la bocca. Chiudiamo gli occhi se volete, se no anche occhi aperti. recupero tutta la mia energia vitale, rimasta sotto forma di paura del cambiamento del nuovo lavoro, la paura di non farcela, la paura che vada male, la paura di non avere la forza per riuscire e la riconduco al giusto posto in me. Fate un respiro. Clavicola. La paura di non riuscire. Questa paura di non farcela. Punto del timo. Lascio andare profondamente la paura e attivo le risorse in me per riuscire. Quindi la mia domanda nuova non è più ce la farò o non ce la farò ma è sotto l'ascella come posso raggiungere questo obiettivo? Come posso dedicarmi pienamente a questo nuovo lavoro monetizzandolo trasformandolo in una fonte di prosperità sotto l'aseno e notate la parola fonte di prosperità non fonte di guadagno prosperità intesa come benessere economico e benessere emotivo tabacchiera il mio centro mentale il mio centro emotivo e il mio centro motorio si allineano per questa prosperità il nuovo lavoro con prosperità gamut e attivo le mie risorse per connettermi ai collaboratori ai clienti alle situazioni che mi portino esattamente lì dove devo andare punto delle dita e osservo dentro di me più ascolto questa voce più guardo questo audio più ascolto questo audio più ripeto queste parole faccio questo esercizio migliorare la fiducia di potercela fare interiormente e le opportunità che si aprono esteriormente respirate più mi apro più si aprono le opportunità è molto importante comprendere che tutto parte dall'interno quindi più energia abbiamo dentro più risultato abbiamo fuori non c'è un premio o un qualcosa semplicemente più energia ho più posso sorreggere più persone posso sorreggere più clienti posso sorreggere più fornitori posso sorreggere più responsabilità posso sorreggere il che significa che mi viene dato dalla vita questo è come aprire se voi apriste un canale quindi avete un canale piccolo che state lentamente ampliando aumentando la vostra energia la vostra energia la vostra capacità di responsabilità quindi più è alta la vostra capacità di responsabilità più avrete possibilità di esprimervi più avete possibilità di ricevere perché ovviamente potete sostenere e dare quindi è molto importante il lavoro energetico è molto importante rinforzare questa parte di noi ed è anche altrettanto importante proprio il percorso interno interno verso esterno quindi il lavoro non come fine ma come mezzo per elevarci per prosperare per essere d'aiuto verso gli altri in modo autentico liberato dalla paura perché se non ho paura non sono dipendente dall'esterno ovviamente è l'esterno che viene verso di me e padroneggio perfettamente la situazione quindi questo lo potete fare più volte ma se sentite che dentro di voi c'è ancora qualcosa che resiste e non riuscite a individuare da soli sapete che avete l'opportunità di prenotare una coaching con me per proprio cominciare a lavorare su qual è il freno qual è la credenza quali sono anche più credenze dentro che impediscono questo cambiamento che è già pronto perché nel momento in cui lo desideriamo è pronto per noi buona pratica e attendo le vostre a presto